Puntatone dei Sapori del Sole oggi abbiamo avuto nella prima parte El Galiberto alla regina dei lievitati e chi abbiamo qui niente po' di meno che Vito. Esagera. Di più? Esagera. Niente po' di meno che il super, il mega, l'unico Vito de Vita. Vito come stai? Bene, tu ti trovo in grandissima forma, sempre smagliante, bellissima come sempre. Grazie Elga, lo senti dietro le quinte? Allora, andiamoci a preparare la pizza, Vito che ci fai? Allora io ti ho portato la campania, no? La campania. Qui abbiamo la bufala. Intera, proprio la bufala. Degli ostaggi, quindi abbiamo la nostra piana del sele, terra orti, abbiamo il mare. Ecco, quindi c'è anche l'alice di Salerno e poi lo raccontiamo. E poi lo raccontiamo. Mentre facciamo. Olive, pomodori secchi, insomma. Allora, cominciamo a stendere la pizza. Sì, stendiamo. Senti, Vito, mentre stendi tu stendi. No, stendo. Stendi, è lievitato, come maturato, come si dice insomma? Ok, sì, il nostro impasto è questo che abbiamo preparato oggi, è un impasto su base biga, cioè è un impasto che viene preparato prima, che viene chiamato biga, perché è fatto solo con acqua, farina e lievito. Un po' di farina in più in confronto all'acqua, quindi è un impasto duro, molto poco idratato. E questo perché? Che risultato ci dà? Poi dopo 48 ore si termina questo impasto aggiungendo l'acqua che serviva in prima fase, quindi andiamo a terminare con l'acqua, aggiungiamo un pochino di sale e un altro pochino di lievito e poi abbiamo questo spettacolo di vista. Viva l'umiltà! Perché non è, no, non è il mio prodotto, ma è la pizza che è uno spettacolo. Ah, hai ragione, è vero, è uno spettacolo. Come alimento in sé, non... Senti, ma io volevo sempre chiederti una cosa, non c'entra niente con gli impasti, con le pizze, ma a pizzarte? Io faccio il pizzaiolo. No, no, voglio sapere chi comanda. No, perciò ti dico, io faccio il pizzaiolo. Quindi abbiamo capito già, era quella di prima, quella che stava al tuo posto prima, come se la vede lei. Perfetto. Senti, saccar forno ce l'abbiamo qui. A te le pale. No, speriamo che il forno sia pronto. Ma perché tu adesso metterai tutto a crudo? Sì, sì, sì. Ah, sì, 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 non l'avevo capito. Sì, 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 sì. Facciamo una martellata alla pizza in modo da non farla gonfiare. Quindi una sorta di focaccia. Nella parte centrale che poi ci andiamo a riempire con un po' con tutti quelli che sono i prodotti che ti ho elencato prima. Ok. Questa è una particolarità. Metti in forno che poi mi bravo, esatto. Nel frattempo inforniamo così poi dopo abbiamo il tempo di metterci tutti gli ingredienti, magari anche di assaggiare. Perché vedo anche nella sac à poche, che c'è nella sac à poche? Una crema che viene fatta dal latticello strizzato dalla mozzarella. Quindi è una particolarità. Crema di mozzarella? Sì, è una crema di latte di bufala. Crema di latte di bufala? Di latticello della mozzarella di bufala, più esattamente. Esatto, hai preso la mozzarella e l'hai strizzata? L'ho strizzata, ho preso il latte e abbiamo creato una crema che adesso andremo a mettere sulla pizza. Poi ci aggiungeremo le melanzane che sono state fatte in agrodolce. Cioè? Allora vengono fritte giusto un minuto in olio bollente, vengono tolte dall'olio, vengono passate in una padella a fuoco lento, in modo che la melanzana scarica l'olio in eccesso, poi l'olio che ha scaricato viene tolto, viene aggiunto un cucchiaio di zucchero, vengono caramellate e alla fine viene aggiunto dell'aceto di mele. E quindi il sapore com'è? E un po' te lo spiego, che assaggi? Ma che assaggi? Assaggi! Sai che buona? È agrodolce? Sì, è un piatto in agrodolce che ha il pizzicorio dell'aceto, quindi ha un'acidità che andiamo a tamponare con la crema che abbiamo creato dal latte di bufala. Abbiamo un datterino soleggiato. Datterino soleggiato? Sì, vengono essiccati al sole, è un prodotto che Terra Ortici ci prepara. E' chiaro, quindi ce l'avete già così? Sì, quindi lo abbiamo già così, aggiungiamo delle olive, un cappero e un po' di origano sopra. Oh, eccoci qua, siamo pronti con la focaccia, che dobbiamo andare velocemente a guarnire. Eccola qua, un po' storta Vito. Eh, ma se non è sorta, non è artigianale. Ah, ecco, c'ha sempre la risposta pronta. Sì, 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 sì. Vai, andiamo, andiamo. Le nostre imperfezioni. Allora, cominciamo con la sac à poche. Abbiamo detto che qui c'è il succo della mozzarella. Sì. Eccolo qua, lui sta facendo proprio un fiore. Certo che non è che è venuta dritta. No, in effetti. Cioè, vorrei dire. Però... Di questo penso che a casa se ne sono accorti. Però non ci interessa, è come i brutti ma buoni, no? Perfetto, sì. Quindi poi mettendoci tutte le nostre cose... Benissimo. Allora, adesso aggiungiamo la nostra melanzana in agroluce. Sì, che ho assaggiato e verificato che è buona. Posso la metterla, allora? Sì, sì, la puoi mettere. Benissimo. Quello che rimane ce lo mangiamo a parte perché pure ci sta. Ok. Ok, via. Poi ci mettiamo sull'alicella. L'alice. Questa come l'ha marinata? Con l'aceto. Ovviamente abbiamo fatto la melanzana in agrodolce con l'aceto. Questa è marinata con l'aceto, ovviamente. Ok. La andiamo a terminare. Per bella, bella, eh? Eccola qua, la nostra alicina. Perfetto. E non è finita qui? No, assolutamente. Ci mettiamo un pezzettino, giusto? Dividiamo un po' di colore. Perfettissimo, bravissima. Ci diamo il colore che serve anche a favore di telecamera, quindi vi stupirò, signori. Signori? Senza trucco e senza inganno, eh? E abbiamo messo anche quello. Mettiamo un capperino così sopra. Mettiamo i capperini, uno per ogni parte, ragazzi. Sì, non è che vorresti dare una mano, no? No. Ok, benissimo. Ci penso proprio, più ti rende il lavoro difficile, più mi diverto. Lascia stare, salica. E comunque va bene. E va bene anche questo. E va bene, va bene. Che ci manca? Giusto. Una spolverata. Di olive. Olive nere che vengono essiccate. E voilà, la pizza brutta. Ma buona. Ma buona. E' pronta. Ed eccola qua la nostra meravigliosa pizza con Vito Di Vita che ci verrà a trovare nella prossima edizione sicuramente. Assolutamente sì. Però per favore mettiti un paio di occhiali seria. D'accordo. Ok, grazie per essere stati con noi. Grazie Vito. Grazie a te. A presto, a domani. Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.